La situazione adesso è tranquilla, ci sono state le polemiche perché non c'è stato quel rapporto di comunicare nella nostra città e quindi si avevano fittato due case a distanza di 50 metri, uno in particolare vicino alla scuola elementare dove io non ero assolutamente d'accordo a poter mettere 80 castracomunitari, profughi, richiedenti asili politici proprio di fronte alle scuole e quindi poi a distanza dell'altro resto di 50 metri, quindi in una sola zona del paese andavano collocati 120-130 ragazzi e quindi non era possibile. Non ci hanno voluto dare spazio col dialogo e quindi noi abbiamo trovato un'altra strada, la strada della legalità e quindi abbiamo bloccato quel complesso che stavano in ristrutturazione e quindi 36 che stanno qua da Irola, stanno bene, vivono bene io ho fatto dell'accoglienza, ho messo le associazioni a disposizione per imparare loro la lingua italiana, per inserirli anche nel mondo del paese che condividono, vivono con gli altri giorni, tutto questo sta andando bene, quindi le polemiche si sono calmate io ho detto a Sua Eccellenza il Prefetto che se si deve continuare questa ospitalità io ne sono ancora pronto ma nelle periferie del paese, non vicino alle scuole, non dove si va ad assemblare un forte numero di extracomunitari.